Non so se me la fa bella, eh? Una scintillera bella, eh? Eh, metallo! Non fare un trucco! Foraggio! Ehi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E io non lo sarei più di sfidare noi, perché non lo sarei più sfidare noi. Mettili in ginocchio! Chiedi perdono. Chiedi perdono! Perdoni. La nostra piccola rilogazione finisce qui. Abbiamo preso le parti un po' più salienti, quelle un po' più importanti che di solito quando andiamo in giro proponiamo alle varie prologo, alle varie situazioni, nelle varie regioni d'Italia. Se dovremmo fare qualcosa di più ci vorrà più tempo e il tempo purtroppo non lo permette, perché ci aspettano i nostri bei relatori che ci parleranno di templarismo. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. 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 Grazie.